Ciao a tutti, questa self-recensione è dedicata a White Knight. È un titolo che non ho ancora affrontato, che vedo stasera per la primissima volta, per cui, contrariamente agli altri video, questa volta registrerò una sessione di gioco con le mie impressioni a caldo. Dal momento che è un survival horror... Dal momento che è un survival horror, non mi resta che spegnere la luce, come si conviene in questi casi, e sperare di non dover cambiare troppe montagne. Ok, facciamo partire il gioco e facciamo partire la registrazione, il bellissimo Upload Studio. Cominciamo a giocare, nuova partita. Caricamento 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 Bello è bello, eh, fin qua. Some nights are just pitch black, without stars, and without sleep. Dirty nights clinging to you like tar. Like this one night, back in 1938. Boston The Great Depression tsunami, was just sweeping over what was left of America. Misery Hunger Despair Times are hard, they said. Times were worse than hard. And the bar was about to close. As far as I was concerned, this was just another intoxicated day drawing to an end. If only I knew. Ok, un'introduzione classica, siamo nel noir, adesso comincia il cinematic. Attic. Stile notevole, un po' come Frank Miller dai contrasti bianco e nero secco Molto intrigante lo stile grafico, sembra proprio di leggere un fumetto di Sin City In the night sky, it's over and over Tagliare l'intro sembra che non si possa Ah però si guida, ok Boston 5 miglia Per fortuna posso accelerare Ho intravisto un nome italiano, cosa che fa sempre un gran piacere Un ponte da Solipiollo Un ponte da Solipiollo Un po' come Dove sono? Dove sono? Molto suggestivo per ora Adesso vediamo quando finalmente avremo il controllo Camminare Nonostante il dolore Camminare Ok Così esploriamo Tasto A Fare Fare La lente di ingrandimento Per indicare di esplorare Qua Qua c'è un altro cue Qua c'è un altro cue Ho trovato un collezionabile Sono 60 Ho sbloccato Ho sbloccato anche un obiettivo Un articolo di giornale Qua c'è un'altra Qua c'è un'altra Qua c'è un cancello con l'ingresso Alla Magione Ok Ok Va bene Così vediamo i collezionabili Qua Cassetta delle lettere Senza la luce non avrei visto nulla nell'oscurità E fin qui ci arrivo anch'io Bene Ok per ora stiamo camminando come l'Edgar abito Di Man in Black Speriamo che Il male alla gamba parti Farò tutto zappicando E' un po' lunga C'è un prodotto I was trying to collect my thoughts But the intense pain was scattering them like a bunch of dead birds i miei fiori sono cambiati in un'obsessione ero a morire? ero a morire? i cambi telecamera mi ricordano un po' Alone in the Dark proprio il primissimo titolo di decenni fa che è una scelta interessante ma pericolosa perché nelle scene concitate potrebbe creare qualche problema se il cambio di telecamera non è repentino disorienta un po' un'aura potentissima questo simbolo misterioso benissimo qua c'è il pozzo eh un altro cambio sì vabbè cartello vendesi localizzato in italiano ok parlato in inglese tutti i testi in italiano abbiamo qui nel gioco va benissimo un po' di difficoltà a trovare i punti se ci si allontana poi bisogna un po' girare in tondo per ritrovarli allora proviamo ad entrare in questa casa che sicuramente sarà ricca di cose simpaticissime qua c'è un bicchiere di vino perché mai dovrebbe esserci un bicchiere di vino ah liquido dorato gusto chiaro colore pulito sono le urine della nonna il bicchiere era umido la sedia era girata verso il giardino qualcuno era appena stato lì vabbè andiamo avanti questo cos'è una lettera sono una donna onesta vuol dire che una zoccola sicuro ho sempre dato il massimo al mio marito il dottor di lavora è bancarotta lui è corrotto mi trovo a pregare per lei che è ricco marta kenton potremmo lavorare per voi viviamo nella baracca sotto il cartello della bestoy presso il matatoio gramma all'ingresso della beraccopoli la prega di venire quanto prima ok abbiamo capito la grande depressione l'america degli anni 30 gente disperata costa pioggia costa pioggia costa pioggia devo cercare una chiave sarà facile questo voglio trovare una chiave si si no 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 I was all alone, with my pain growing, and some nausea starting up. Don't stop. Think quick. Think well. It was just an accident. It happens. The girl must have made it out alive. I had to make it out alive, too. I would like to. The window was on a tomb. It's a figurative. The old Travi March. Continua a sembrare sempre di più l'Edgar Hamilton. Dammi zucchero. Di più. Va bene. Allora, dove sarà la chiave? Tanto avevo trovato... Qualcuno mi stava nascondendo, e poi la casa eravamo dentro a me. Mi serviva una chiave. Birra. Qua ci sono dei buchi in quello che ho cercato, quindi forse c'è qualche cosa indietro da trovare, come collezionabili. Vabbè, andiamo poi in sto cimitero, che è sempre bello. Sempre bello girare i cimiteri. Di notte. Senza luci. Camminando come l'Edgar Hamilton. Ok. Ormai sono convinto che la chiave sia nei pressi della statua. Tutti gli indizi portano lì. Cerchiamo bene. Giriamo attorno. Sono apparse due manine che prima non c'erano. Eccola lì Era l'ombra della statua Hai capito? Ho bisogno di aiuto Qualcuno potrebbe capire questo Molto bene, adesso con la nostra chiave No male il colfino, eh? Eccolo 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 Sì, ho bisogno di un'ambulanza, potete sentire me? Ho bisogno di un'amulanza! Questa... 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 Ma lì, 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 lì... Lì, 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 lì... Ho bisogno di un'amulanza, ho bisogno di un'amulanza. L'amulanza da un'amulanza è crescita con ogni ogni comando che ruiva dalla mia spina. Ho bisogno di un'amulanza B. Huh! Che? È un vaso Otri fiammiferi, molto bene Maschera africana Un quadro La c'è una porta, però prima di entrare esploriamo la stanza Devo dire che i cambi di inquadratura aiutano Un po' di luce Qua c'è un'altra porta Un'altra porta E qua siamo tornati dall'inizio Qua c'è qualcosa che non avevo visto Ok, allora cominciamo dalla prima porta che abbiamo trovato Un bell'ambientino Qui c'è Edgar Allan Poe Margaret, il diario di Margaret Oh, obiettivo sbloccato Libro della buonanotte Ho dato ordine di togliere i fiori sulla torse del giardino E riescono di muoversi il loro profumo da insopportabile Sì, ha qualcosina della casa Asher di Poe Secondo me il riferimento non è casuale Il maniero Gli Stati Uniti Un periodo cupo Selina Troppo buio Un altro fiammifero L'arrivo dell'oscurità Uno sui 10 articoli giornali Vabbè andiamo avanti E' un po' quanto c'è di interessante Ok, la poltrona serve a salvare Esatto L'arrivo E' qua La pierra Oh bene Possiamo correre allora corriamo sono pochi tasti ma c'è tutto quello che serve qui la ok fantasma assolutamente d'accordo abbiamo visto che poi è chiusa allora dobbiamo cercare un altro passaggio qui abbiamo già provato questa era chiusa prima era chiusa sta porta prima vero? cosa c'è qua dentro? guarda una senza testa ricorda un po' l'igelia sembra di po' questo ok 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 mi sono cacato sotto va bene ecco il fantasma vediamo un altro libro da leggere attenzione ecco il fantasma va bene sta volta scappiamo via 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 ok quindi io penso che vada bene così per ora per ora va bene così white knight white knight si è rivelato essere una piacevole sorpresa a quel gusto retro che piace tanto in questo periodo del panorama videoludico ambientato nella grande depressione degli stati uniti degli anni 30 che è un'ambientazione affascinante quindi questi chiaro scuri il correre dietro l'ultimo cerino per non restare al buio i fantasmi che appaiono da un momento all'altro regalando più di un brivido sinceramente devo dire che sono piacevolmente sorpreso è un gioco che vi consiglio di avere e di giocare con molta attenzione perché va gustato al buio magari con delle cuffie se ne avete la possibilità e vissuto fantasma dopo fantasma ciao a tutti questa selfie censione è dedicata a white knight è un titolo che non ho ancora ciao a tutti questa selfie censione è dedicata a white knight è un titolo che non ho ancora affrontato che vedo per la prima volta stasera per cui al contrario delle altre volte non farò una recensione a posteriori in base alle mie esperienze ciao